Appuntamento importante per il mondo della pallavolo al Pala del Mauro. Le società del Comitato Territoriale Irpina-Sagno hanno preso parte all'evento voluto dal presidente Stefano Aquino, incontro in cui sono state gettate le basi per la ripartenza post-Covid e a cui hanno partecipato anche i consiglieri regionali Luciano ed Avitabile ed il consigliere federale Felice Vecchione, a fare gli onori di casa l'assessore allo sport del comune di Avellino Giuseppe Giacobbe. Nel corso della mattinata è stato ricordato anche il consigliere Luigi Biancardi, scomparso recentemente e per cui è stato istituito un premio annuale per il dirigente dell'anno. Effettuate anche le premiazioni agli arbitri benemeriti e neopromossi, oltre alle borse di studio dedicate agli allenatori intitolate ad Alberto Matarazzo e Pasquale Pormile. Nel frattempo, al margine dell'incontro, Felice Vecchione ha parlato nuovamente della problematica relativa alle strutture. Purtroppo sono quelle che avevamo già lasciate prima. La casa dello sport non esiste ancora. Le società continuano a mendicare quotidianamente presso gli amministratori, i gestori di questi impianti, che continuano a tenerle chiuse, non so per quale motivo. Si parla tanto di inclusione, si parla di riavviamento nell'attività salutare dei ragazzi, che è importante, però quando poi dobbiamo concretizzare, riuscire ad avere gli spazi, aprire gli spazi ai ragazzi, allontanandoli da tante insidie che la vita quotidiana ci mette contro, troviamo sempre qualche dirigente miope, qualche amministratore miope, che non riesce a far funzionare l'impianto sportivo che nasce con i soldi pubblici per fare sport, ma vengono chiuse per fare probabilmente altre attività. E ha fatto eco il presidente Stefano Aquino. Quanto riguarda un avvio di stagione post-covid, che è duro e ha bisogno di essere pianificato bene, ma soprattutto ha bisogno di essere spinto, in quanto le difficoltà sono tante, quelle che normalmente si va incontro, si aggiungono le tante altre legate soprattutto alle strutture, quindi l'appello soprattutto è alle amministrazioni, ai dirigenti scolastici a rendere possibile lo svolgimento delle attività sportive nelle palestre affinché questi ragazzini finalmente ritornino a fare sport.